Grande successo per il Carnevale della Proloco di Giarre presieduta da Salvo Zappalà. Centinaia i bambini che vi hanno preso parte. Entusiasmante la sfilata di maschere che ha visto la partecipazione di molti gruppi del territorio che attraversando il cuore del centro storico giarrese, con un lungo serpentone che si è snodato da piazza Monsignor Alessi, lungo via Callipoli, Corso Italia, Piazza Carmine, per poi approdare nella Sala Messina, hanno tinto giarre di colori e allegria. Nella Sala Messina si sono concentrate tutte le attività di animazione con il supporto artistico del gruppo di animatori e la degustazione gratuita delle chiacchiere, dolce tipico del Carnevale. Un pomeriggio di festa tra musiche e balli che hanno coinvolto grandi e piccini. A conclusione della manifestazione sono stati consegnati gli attestati a tutti i partecipanti e una giuria tecnica ha giudicato la maschera più originale e la maschera più bella. La consegna delle targhe per il premio Re Burlone. Ha chiuso la manifestazione. La targa per la maschera più bella è stata conferita a Roberta Strano di 5 anni e il premio per la maschera più originale è andato a Rita Casabona di 11 anni. Il presidente della Proloco, Salvo Zappalà, afferma quest'anno anche grazie alla collaborazione dell'amministrazione comunale nella persona dell'assessore Piera Bonaccorsi, siamo riusciti a regalare momenti di grande festa coinvolgendo centinaia di bambini, veri e unici fruitori di questa iniziativa che comunque rappresenta il preludio di un futuro cartellone per restituire a Giarre quell'antica tradizione del Carnevale di Piazza con la piena partecipazione della collettività conclude il presidente della Proloco Giarrese.